La guardia costiera di Pesaro questa mattina ha sequestrato 200 kg di vongole in porto. Il blitz è scattato questa mattina all'alba dove i militari stavano monitorando da giorni l'attività di pesca delle vongole e l'attività investigativa aveva fatto emergere che il prodotto pescato era di gran lunga superiore a quello previsto dalle norme in materia. Ogni peschereccio intento alla pesca può sbarcare un quantitativo massimo di 40 sacchi per un peso di circa 400 kg ma il limite questa volta non è stato rispettato e sono scattati il sequestro di 200 kg di vongole delle due draghe idrauliche impiegate per la pesca ed elevati due verbali amministrativi di 2000 euro ciascuno a carico di due motopesca. Le vongole sequestrate una volta acquisito il parere tecnico del veterinario verranno rigettate in mare.